salve a questa nuova partita juventus contro inter io sono la juve che vinca il migliore cioè io ecco che ho preso palla no me l'ha ripresa tira la mia ho fatto fallo conte ha fatto fallo me l'ha espulso no già un espulsione ora sono in 4 contro 5 io non so giocare senza far falli siccome tira la mia tira in porta grande ravanelli questi erano giocatori grande roba cattivo così grande ravanelli la juve in vantaggio 1 a 0 guardate il replay bellissimo gol di ravanelli dai fai qualcosa passala tira no ma cosa ho fatto fallo intercetta la grande passa dal centro avanza vieni qui tira dalla distanza grande gol di ravanelli dalla distanza che classe grande ravanelli guarda la classe bravissimo poi uno si è buttato di testa vai 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 no è solo contro il portiere grande angelo grande peruzzi o cosa ha fatto o come l'ha presa passala tira tira dalla distanza il portiere è fuori grande ravanelli ancora lui 3 a 0 tripletta yume questa è la grande yume grande yume guardate il grande gol il portiere che si butta che mischero andiamo tiro ora lo va a zoppare che mi ha rotto questo qui oh via oh perché mi faccio sempre spell e perché ora sono solo 3 giocatori è finito il primo tempo 3 a 0 per la yume via andiamo non mi parla inglese certo che riprendo certo non ho paura passala no e adesso lo conto il portiere cosa fa o cosa hanno fatto tutti l'importante è che non abbiano fatto gol piglia la grande tira in porta oh via grande viaglia ha zoppato pure lui no è spulso ora sono in due e non posso neanche più far falli ora o forse sì perché non me ne può più spell e penso ho solo 2 giocatori anche stavolta grande Peruzzi tira la via no no paura grande Angelo grande Angelo che fenomeno ma che casino la palla che rimbalza dappertutto qui la tecnologia rubava poteva succedere qualsiasi cosa un EFI fa 2017 qui si resiste con ogni cosa guardate la leggiatria l'armoniosità la grazia delle immagini di tutto quello che succede che può succedere non ci sono limiti non è FI fa 2017 qui succede ogni cosa Pallonetti Peruzzi che fa l'acrobata io che faccio 8 gol grande del Piero grande del Piero perché qui può succedere ogni cosa questi sono i veri gioini viva FI va a 97 guardate il grande gol di Alex ha voluto far gol lui glielo insegna lui all'interista come si fa gol che non li riusciva allora ci ha pensato lui grande Alex non lo faranno neanche stavolta perché il grande Angelo è la figlia addio sembra la Bastiglia ma si resiste si resiste con ogni mezzo questo è il fico 97 la resistenza oltranza e gli autogol grande del Piero un altro autogol grande Alex 3 a 2 devo stare attento passala attento che te la pareggiano ora scarto tutti è finita è finita ho vinto ciao ho vinto ciao 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 alla prossima ciao 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 ciao